e dovete dire che cosa ne pensate di questi artristi che suonano in giro per i campi è una bella cosa danno un'armonia nella passeggiata è molto piacevole e lei io concordo e poi è tutto bucolico anche il canto bellissimo io sono Paola Lorenzetti e vengo da Recanati io sono Miriam e vengo da Recanati e dovreste dire che non vi abbiamo pagato per dire questo no questo no ci avete alietate alietate della passeggiata grazie grazie a voi continuate continuate così se ci avete un cric dopo per rialzarci noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie. 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 Signora, le dispiacerebbe dirci che cosa ne pensa di quello che ha appena visto? Ci piacerebbe avere la musica ogni tanti metri, ogni 10 metri, ogni 15, non lo so. Musica bella come quella che ha sentito. Bellissima, sì sì. È stata pagata per dire questo? L'è stato fatto del male? No. Solo in allegria. Grazie. È un'iniziativa bellissima. 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 Sì sì. Sintonate. Soprattutto simpatici. La bellezza fisica non vogliamo dire... Mi permetto perché davanti se la cantiamo su. Tutto traccevo io, i ritagli da piccolina però. Grazie. Pensano che pagava veramente. Perché suonava il mandolino, quindi ho fatto sempre. Oggi ce lo volete a fare. È un'iniziativa bellissima. È un'iniziativa bellissima. Lo ho sentato con l'amore. Sì. Lo sento con l'amore. È un'iniziativa bellissima. Sì. È un'iniziativa bellissima. È un'iniziativa bellissima. Abbiamo incontrato qua due forestieri che vengono da Iesi, Ancona, da tutte le parti, comunque non sono acefali come noi osimani. Cosa ne pensate di questa pista, di questo passeggiata, vi piace, non vi piace? Molto carina, molto carina, però non l'abbiamo fatta completa, quindi no, molto carina, in mezzo al verde, tranquilla, asfalto ottimo. E voi non avete avuto la possibilità di sentire questi due bravissimi musicisti? Ancora no, se c'è la possibilità abbiamo volentieri. Ma la musica in mezzo al verde, un'idea bella? Bellissima, bravissima. E com'è? Comunque posso? Su, i bravissimi avrei da ridire. Fai zitto!